Gli unicorni, oggi faremo un nuovo video. Allora, con gli slime, prima di tutto vi servirà una ciotola, io uso un piatto di plastica, qualcosa per mescolare, è colla che è liquidissima, tipo come l'acqua, liquidissima, è assorbente, si assorbente, è liquido per lentini e celluli, poi lo assorberemo tutto, incominciamo a mettere la colla. E il colore lo farò rosa. Il colore, si, ben detto, lo farò. Incominciamo a mettere la colla. L'ho messo qui, la colla, si vedete, liquidissima, raga, tipo come l'acqua, liquidissima. E ora ci metteremo il colorante. Non ve lo posso mostrare perché l'acqua è liquida. Sì, l'acqua, la colla è liquida. E metteremo ora il colorante. E poi l'acqua da barba, di carbonato e questi. Mi sono dimenticata di farvi vedere. E mi sono dimenticata. Passeremo al colorante. Ce l'ho fatta. E mi è dato questo. Mascolo, mascolo, mascolo. Rosa. Sta scafittando. E ora lo farò. E questo è il risultato rosa. E questo colore. Mascolaremo. E ora andiamo a mettere quella cosa. Ho messo il decarbonato. E la scriviamo da barba. La scriviamo da barba no. Perché poi si fa bianco. E poi il colore non rimane più. Poi ho usato il carbonato e basta. Poi la scriviamo da barba e la metteremo dopo. E la mia uscita. Tutto che mescolò ancora. Mascolo ora con le mani. Che bello. E ora ci metteremo le palline. Vi farò vedere. E in una scatola la metterò in questa. L'ho fatto proprio sulla dicetta. L'ho fatta. L'ho presa quel coso. L'ho preso. E ho fatto tutta la ricetta. Ho fatto. Mi sono dimenticata di dirvi. E ho preso. Ho preso una scatola di questa. Uguale. Da internet. E poi ho fatto questo lo stesso. E voi. Costa al 3 euro. 3 euro solo. E ora ci metteremo delle palline. Che c'ho queste. Che avete viste? Le ho messe in questa di Halloween. Allora la metterò. Un poco duretto perché diciamo che ho messo troppo di carbonato. E ora andrò prendere la crema. E poi lo spazio. Lo sentite. Allora la metterò. un po' di decarbonato. Un po' così alto. Dai. 1, 2, 3, 3. Ciao. Non posso perché cadono le palline. Ora. Lo farò più giusto. Mi riesco. Guardate. le palline mi cadono. perché tipo un po' congretto. Sarà grossi. Lo metterò in questa scatola. E che dico. Ci vedremo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie.